Si è conclusa lo scorso 15 settembre l'operazione Mare Sicuro 2019 della Guardia Costiera di Sant'Agata Militello. Avviata a livello nazionale lo scorso 1 giugno, l'operazione è servita a prevenire e contrastare i pericoli per la pubblica incolumità e garantire la corretta fruizione del demanio malittimo e la salvaguardia ambientale del tratto di costa Nebroideo. Durante la stagione estiva, con il supporto degli uffici di Capodorlando e Santo Stefano di Camastra, sono stati eseguiti complessivamente 1.186 controlli in mare e a terra, a seguito dei quali sono stati elevati 46 verbali amministrativi e trasmesse alla Procura di Patti 8 notizie di reato per violazioni in materia di ambiente, sicurezza della navigazione e occupazione abusiva di demanio marittimo. Al porto di Capodorlando sono state costantemente verificate le corrette procedure di imbarco e sbarco passeggeri in banchina e intensificati controlli in mare, a seguito dei quali sono stati rilasciati 30 bollini blu per i diportisti più virtuosi e rispettosi dell'ambiente. È stata fornita assistenza ad un'imbarcazione in avaria e in balia delle onde e 10 persone in difficoltà sono state poste in salvo anche con il contributo di assistenti bagnanti e privati cittadini. Particolare attenzione è stata poi posta all'abbandono di rifiuti. Gli uomini della Guardia Costiera durante l'estate hanno individuato tre distinte aree per oltre 17 mila metri quadri, di cui due sono state già bonificate e restituite alla pubblica collettività. Si sono svolte inoltre attività di sensibilizzazione contro la dispersione delle microplastiche nell'ambiente, inserite nell'ambito della campagna Plastic Free e giornate dedicate a giovanissimi e ragazzi diversamente abili sulla cultura del mare. Infine, due tartarughe marine caretta caretta in difficoltà sono state recuperate e affidate alle cure della sede di Palermo dell'Istituto Zooprofilattico.